... Buongiorno spettatori di calcio e di Gladio Cup Siamo qui in diretta dal Circolo Ragnino di Roma per il Gladio Cup Domenicale Siamo qui in diretta oggi con il capitano della squadra... Fortestim E il capitano del... Da Sporto Con... Rosa De Venti E... Il Kipo Sfano contro... Lizia Lions E la squadra? Spartak Mosca Ovra E... Zappaterra E come vi siete preparati per questo match? Allora, noi veniamo da tre sconfitte quindi speriamo di vincere, siamo ultimi La sveglia dopo il sabato sera è sempre un po' difficoltosa, no? Eh sì, però cerchiamo comunque di essere svegli e portati tre punti Beh, certamente. Che aria si respira negli spogliatori? È un'aria positiva, dai. Abbiamo fatto punteggio pieno Finora, tre vittorie o tre Speriamo anche oggi di riuscire a vincere Che aria si respira negli spogliatori? Quindi molto tranquilla e rilassata? Sì, sì, rilassatissima Ecco E voi? Rilassati così? Noi facciamo mai casino, vero Raffaele? Dai, noi siamo bravi Una squadra molto, molto tranquilla Come vi state trovando in questo campionato? Bene, benissimo, tutto bene, ci divertiamo Va bene, sempre meglio divertirsi con la possibilità di poter vincere un viaggio per il Salento E come siete preparati per questo match? Eh, una partita abbastanza difficile soprattutto perché giochiamo senza portiere Loro sono una bella squadra e noi fanno una bella partita E per voi? Ce la metteremo tutta, non conosciamo la squadra Veniamo da due sconfitte di fila, quindi vorremmo tornare alla vittoria Siete pronti per questo match? Sì, siamo pronti, speriamo di vincere, portati tre punti a casa È l'importante divertirsi e poi ci sarà comunque la possibilità di vincere il viaggio del Salento Dal Circo Laragnino per voi in omaggio un panettone per Natale Con l'augurio di postare buone feste E da GraduCup e dal Circo Laragnino buone vacanze, grazie mille